Incidente mortale a Prignano, Cilento, nel tratto di galleria della strada statale 430, conosciuta come Cilentana, è accaduto nel pomeriggio di lunedì 23 settembre. Una Mitsubishi pick-up si è scontrata frontalmente con una Mercedes classe C220 e Nissan Note. A perdere la vita sul colpo è stato Antonio Matarazzo, di anni 50, di Castellabate. Ferite anche le altre due persone che viaggiavano all'interno della Mercedes. Si tratta di un uomo di 42 anni e di una 67enne originaria di Vallo della Lucania. La dinamica dell'incidente stradale non è ancora chiara, si presume però possa essere stato un sorpasso azzardato, ma non si esclude un improvviso malore che possa aver colpito uno dei due conducenti alla guida. Sul posto i caschi rossi di Vallo della Lucania, che hanno dovuto estrarre il corpo del cinquantenne rimasto incastrato nelle lamiere dell'auto. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno constatato il decesso dell'uomo, è trasportato d'urgenza i due feriti presso il nosocomio vallese, dove attualmente sono in prognosi riservata. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Fabio Lagarello. Antonio Matarazzo era molto conosciuto in Cilento, anche per il lavoro che svolgeva. Lascia due figli piccoli, una strada, quella della Cilentana, troppe volte macchiata di sangue, un bilancio tragico che vede fino ad oggi quattro vittime strappate alla vita e tantissimi incidenti stradali.